Domenica di Pasqua con il nostro ciclo di rito ambrosiano con Don Gabriele Diner della parrocchia di Tesserete che è una pievere ambrosiana però Dante di fatto la Pasqua non è così diversa nei vari riti o no? No, 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 è praticamente uguale perché io credo sia legato al fatto che la Pasqua era il tempo del battesimo, era la notte dei battesimi, la notte di Pasqua e quindi era il momento in cui il rito era uniforme perché il battesimo era un rito uniforme, il più antico credo rito della chiesa cristiana, giusto Don Gabriele? Sì esatto, infatti il sacramento è dove è riconosciuto da tutte le chiese proprio il battesimo, quindi tutte le chiese hanno questo sacramento comune, bisogna ricordare appunto che la Pasqua non è come il Natale che cade sempre il 25 di dicembre ma è una festa mobile quindi uscilla Infatti si dice la Pasqua bassa, la Pasqua alta che non ho mai capito come vuol dire alta o bassa ma comunque... Ma vuol dire semplicemente che viene calcolato sul ciclo lunare e quindi la Pasqua accade sempre la domenica successiva del plenilunio dell'equinozio di primavera, quindi questo è un po' il principio e oscilla tra il 22 di marzo e il 25 di aprile, queste sono un po' le possibilità La Pasqua però si è arricchita di simboli, no? Alcuni, vabbè la Colomba forse si può ancora capire, c'è la storia della Pasqua come tempo di pace messianica, di pace che arriva finalmente dopo il peccato, dopo la Quaresima e vabbè la Colomba un po' si capisce, perché è quella che portava nel becco il rametto dopo il diluvio, tanto per capirci Ma l'uovo per esempio, o il coniglio addirittura adesso Ma la psicologia è molto ricca, alcune c'entrano e altre un po' meno, per esempio la Colomba l'hai già accennata tu quindi ha un suo significato, l'olivo lo richiama anche L'uovo ha una tradizione pagana, certamente, poi l'ha ripresa un po' la tradizione ebraica perché tu sai benissimo che la cena ebraica è comprensiva dell'uovo C'è l'agnello pasquale, c'è il pane azimo, ci sono il cheroset, che sono le erbe amare e poi c'è l'uovo che rappresenta un po' questa rinascita, questa sorta di risurrezione, questa vita nuova Quindi in un certo qual modo lo possiamo capire Il coniglietto lo si capisce meno se non c'entra tanto forse solo perché il coniglio è piuttosto fertile, prolifico e quindi magari anche lì È un po' sovrabbondante di vita insomma anche lui Ecco appunto, ma c'entra direi poco o niente La Pasqua, tu hai citato adesso la Pasqua ebraica, ma aspetta, la Pasqua è la Pasqua nostra Sì, certo, ma tu sai benissimo che Gesù si è sempre allineato sulla tradizione ebraica dando un senso nuovo, quindi la Pasqua non l'hanno inventato i cristiani c'era già prima, ma aveva un altro significato ovviamente perché questo Pesach, che è la traduzione letterale di Pasqua significa semplicemente il passaggio, quindi il passaggio dalla schiavitù alla libertà dall'Egitto alla terra santa e quando Gesù è risorto ha dato questo significato nuovo della Pasqua che è la sua risurrezione Sì, è lui che ha fatto il passaggio Esatto Ecco, nella Pasqua, nei Vangeli si racconta di chi fa l'esperienza dei testimoni, diciamo, della Pasqua e ce n'è abbastanza, devo dire, no? C'è Pietro, c'è Giovanni, c'è Maria Ecco, questi qui, che personaggi sono? Ma sono, beh, personaggi notissimi che fanno esperienze diverse perché tu sai che Maria che è quella che doveva essere posseduta dai sette demoni Che non è la Maddalena? Maddalena potrebbe essere quella non si precisa bene chi sia non si capisce comunque è quella lì è una delle diverse Marie che non è certamente la madre di Gesù No Maria va, trova il sepolcro vuoto ritorna di corsa, avvisa gli apostoli salgono anche questi e qui c'è proprio una differenza di genere come si comporta il maschio e come si comporta la donna cioè gli uomini arrivano lì, constatano e poi cosa fanno? Niente cioè non c'è niente da fare se ne tornano a casa invece Maria ha un'attitudine diversa che è proprio quella tipicamente femminile che è quella di far presenza di rimanere lì e Maria nel Vangelo piange a dirotto perché dice mi hanno rubato lo sposo ed è un pianto di sofferenza e fin quando non c'è Gesù presente si piange non ci sono altre alternative e lì c'è tutta una dinamica molto interessante perché Maria fin quando continua a guardare dentro nel sepolcro non riesce a vedere Gesù e Gesù era presente da sempre anche quando c'erano i due apostoli ma non si vedeva e bisognerebbe fare un piccolo lavoro esercizio di esegesi qui perché si dice a un certo momento esegesi vuol dire interpretazione del testo perché quando Maria guarda dentro vede i due angeli che dicono perché piangi e va bene poi a un certo momento si dice che si girò dall'altra parte e vede un uomo che era Gesù ma lei non l'ha riconosciuto perché l'ha confuso con il giardiniere e lui fa la stessa domanda perché piangi e lei gli dice beh se l'hai portato tu dimmi dove l'hai messo che vado a riprendermelo e poi succede un fatto molto interessante perché Gesù la chiama per nome però non dice Maria usa la sua lingua un po' il suo dialetto diciamo così che è l'aramaico e la chiama con il suo nome vero Mariamma e a quel momento lei riconosce Gesù e lì è strano perché si usa di nuovo lo stesso verbo si dice si girò ma come si girò la Già lo guardava e si gira ancora dove si gira ovviamente quel girarsi bisogna interpretarlo in un modo un po' diverso cioè è quello di convertirsi lei ha capito che lì davanti c'è veramente Gesù con la chiamata del suo nome e guardate che chiamare per nome una persona è sintomatico perché è la nostra identità io se penso a un paio di mie piccole esperienze personali se posso raccontarle è che a scuola quando sbagli il nome di un bambino il bambino si offende mi chiamo mica Giovanni mi chiamo Pietro perché è proprio una cosa che disturba soprattutto i bambini e la seconda cosa è che quando sono appena arrivato a Tesserete camminando in piazza sento uno che mi chiama Lele e io ho detto ma se uno mi chiama Lele è perché mi conosce bene e allora mi sono detto è come quello che è successo a Maria cioè quel suo nome era proprio solo suo ecco il nome è il momento in cui invece noi veniamo identificati dal Signore anche il Signore ci chiama per nome e questa è la nostra Pasqua abbiamo chiesto anche al nostro Vescovo di augurarci la buona Pasqua quindi la uniamo ai nostri auguri buona Pasqua buona Pasqua anche a voi questa Pasqua c'è un'immagine che mi colpisce particolarmente un'immagine della scrittura che forse non è abituale ma che mi sembra molto pregnante l'immagine dell'ancora credo che noi dobbiamo vivere la Pasqua come questa occasione in cui ci sentiamo veramente ancorati alla speranza e credo che nel nostro tempo abbiamo bisogno proprio di sentire che non siamo una nave in balia delle onde e che così subisce le intemperie della storia ma che nonostante sentirci sballottati di qua e di là dalle vicende che capitano comunque la nostra ancora tocca già la roccia è l'immagine della lettera agli ebrei questa che la nostra speranza è come un'ancora sicura e salda per la nostra vita ecco che la Pasqua credo che dovremmo accogliere proprio come questa convinzione profonda che nonostante tutte le cose che capitano nella nostra vita che ci fanno sentire incerti, traballanti però nell'umanità di Cristo risorto noi siamo agganciati siamo dentro questa esperienza di solidità di saldezza che non viene meno l'ancora tra l'altro è un'immagine antica nella iconografia cristiana è stata usata credo anche sulle tombe sì 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 è un simbolo che da subito i cristiani hanno colto proprio penso a partire dall'esperienza spesso drammatica dell'attraversare il mare con una nave magari non particolarmente solida ma quando si arriva in porto e si può gettare l'ancora anche se scoppia la tempesta si sa che la tempesta non la porterà via perché questa ancora assicura la saldezza tra l'altro il naufragio è un'esperienza abbastanza tipica tanto che San Paolo credo che ne parli abbastanza di questa esperienza che ha fatto del naufragare più di una volta quindi non è che succedeva abbastanza spesso certo ma poi anche l'immagine dell'essere battezzati in un certo senso è un'immagine della nave che affonda ma è ripresa dai cristiani in senso rovesciato noi affondiamo nella morte di Cristo per risorgere a una vita nuova in questo la Pasqua credo che è proprio un legame diretto ecco ha un legame diretto con queste immagini grazie a tutti